Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Nel panorama dei social, le dinamiche familiari possono assumere un ruolo centrale, specie quando i protagonisti sono figure pubbliche. Questo è il caso delle sorelle Beatrice e Ludovica Valli, note per la loro partecipazione al programma televisivo Uomini e Donne. Recentemente è emerso che il rapporto tra le due sorelle non è così armonioso come si potrebbe immaginare. Beatrice Valli, sposata con Marco Fantini, ha recentemente confermato attraverso un'intervista su Instagram una certa distanza con la sorella Ludovica, a differenza del legame molto più solido che mantiene con Eleonora, la terza sorella del trio. Queste dichiarazioni arrivano dopo numerosi sussurri e congetture nel mondo del gossip riguardo la loro relazione. In risposta ai quesiti dei suoi seguaci, Beatrice ha espresso il suo disappunto nel discutere pubblicamente di questi argomenti. Ha tuttavia chiarito che, nonostante non ci sia stata alcuna lite significativa con Ludovica, il loro rapporto è meno stretto rispetto a quello con Eleonora. Quest'ultima ha recentemente dimostrato il suo affetto per Beatrice e Marco Fantini, inviando una lettera emozionante, durante la loro apparizione nel programma Verissimo, condotto da Silvia Tofanin. In contrasto, Ludovica non è stata nemmeno menzionata nell'intervista, un dettaglio che non è sfuggito agli attenti osservatori delle vicende delle sorelle Valli. Ulteriore conferma della tensione esistente è venuta da Ludovica stessa, che interrogata dai suoi follower su Instagram, ha rivelato di non essere stata informata dell'apparizione televisiva delle sorelle. Le sorelle Valli hanno occasionalmente lasciato trasparire, attraverso dichiarazioni e mezze frasi, una certa freddezza reciproca. Adesso, con le recenti dichiarazioni di Beatrice, si getta una luce più chiara sulla natura di queste relazioni familiari. Nessuna lite drammatica, nessun grave dissidio, ma semplicemente la constatazione che non tutti i legami fraterni sono ugualmente stretti. Che ne pensate? Avete una preferenza tra le due sorelle Valli? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie